Questa è la storia di come un segno in fronte può farti diventare da ragazzo sfigato preso di mira da tutti i bulli a uomo più attraente del mondo per tutte le ragazze teppiste. E no, il disegnarselo in fronte da soli credo che non funzioni. Anzi, probabilmente c'è il rischio di venir preso ancora più in giro. Ma la storia è ben diversa e quindi lasciate che vi racconti questo, Tokyo Refrainers? Rokudo è quello che da tutti viene considerato come un perdente e ne più che consapevole, tormentato dai compagni a scuola così come guardato con sufficienza dagli estranei. Infatti il ragazzo non riesce a cambiare la propria situazione e la sua unica valvola di sfogo sono i suoi amici. Dei perdenti quanto lui. Ma un giorno riceve in eredità da suo nonno un antico artefatto tramandato da generazioni. Una pergamena in grado di evocare dei demoni e di soggiogarli. Ma nel mondo moderno, tuttavia, la pergamena ha un effetto leggermente diverso. Poiché fa in modo che ogni cattiva ragazza si innamori di Rokudo. Ed ecco spiegato il simbolo in testa. Anche se questo non cambia il fatto che dai ragazzi viene comunque sempre menato. Ma diciamo che ora le ragazze hanno un occhio di riguardo nei suoi confronti. O almeno, le cattive ragazze. E ce ne sono tante, partendo da una sua compagna di classe che lo ha sempre preso in giro. Ed ora si scusa con lui e diventa il suo sfondo del cellulare. E se questo può sembrare strano agli occhi degli altri, ecco che si imbatte nella teppista più forte e temuta della zona. Ranna. Che rimane stregata dal suo simbolo e si innamora di Rokudo. Ma tu guarda il filo rosso dell'amore fatto col sangue della gente pestata. Ah, bello. Il caso inoltre vuole, o l'autore del manga, che lei sia una sua compagna di classe che non era mai venuta a scuola. Ed ora è la sua nuova compagna di banco. Ma quali sono i vantaggi di questo suo potere? Beh, può chiedere di fare qualsiasi cosa a loro. Come smettere di combattere perché sarà lui a proteggere lei. O almeno, viene menato pesantemente. Ma il suo coraggio verrà premiato e si farà nuovi amici e incontrerà tanti teppisti. E teppistelle che si innamoreranno di lui. Portando avanti il nobile obiettivo di far diventare quelle cattivone, brave ragazze. In modo tale che loro non siano più costretti ad amarlo visto che il simbolo funziona solo sulle monellacce. Un'ottima scelta. Un'ottima scelta. E invece voi cosa avreste fatto nella sua situazione? Lo so cosa avreste fatto. Lo so e come cosa avreste fatto.